Su questo vi chiederei magari di fare un altro rapido giro di riflessioni, magari adesso potremmo, rifacciamo il giro nell'ordine precedente per non far parlare due volte di seguito alla stessa persona, quindi ridarei la parola a Claudia e poi... Io personalmente non credo che il PD sia un partito fallito, anche se naturalmente non ne possiamo ignorare le debolezze e le fragilità. Credo però che sia innegabile che il PD comunque resta l'unico soggetto a partire dal quale è pensabile una riorganizzazione, un rilancio di un centro-sinistra, se vogliamo, capace appunto di svolgere quella funzione nazionale per il quale è nato l'Ulivo prima e poi il PD. Credo che le fragilità del PD dipendano, va bene, naturalmente da tanti motivi, ma in parte dipendono anche dai problemi incontrati nella svolta. Cioè c'è una concatenazione tra la svolta, l'Ulivo e il PD, lo diceva prima anche Romano Prodi, e questa concatenazione è una concatenazione da un lato positiva perché ha prodotto appunto l'incontro dei diversi riformismi, ha prodotto una nuova apertura politica, una nuova realtà politica nel Paese e alla fine ha prodotto il PD. Però in questa concatenazione ci sono stati anche degli aspetti negativi, perché la svolta è stata in qualche modo frenata nel suo sviluppo, Occhetto se non sbaglio usa l'espressione deviata, deviata dal suo percorso, e io ho usato nell'articolo del Mulino l'espressione snaturata, è stata in qualche modo deviata, e quindi ha realizzato comunque una parte dei suoi obiettivi, ma non li ha realizzati interamente, non si è realizzata interamente. E questo limite lo abbiamo visto poi nell'Ulivo, perché l'Ulivo è nato come la promessa di un nuovo soggetto politico, ma appunto come è stato detto i partiti poi hanno invece frenato questa possibilità di costruire un nuovo progetto politico e hanno inteso, l'Ulivo lo hanno trasformato in una pura e semplice alleanza, e questo chiaramente non era il progetto della svolta, il progetto della svolta era quello della trasformazione, della nascita di un nuovo soggetto politico con una trasformazione profonda di quelli che ne facevano parte e non semplicemente di un'alleanza. E il PD è nato in ritardo, io credo che il ritardo in politica sia una cosa molto importante, perché il ritardo significa che vengono sprecate delle energie, vengono deluse delle speranze, e questo è successo con la nascita ritardata del PD, e tuttavia è nato, e questo è un fatto positivo, io credo che noi dobbiamo guardare, non possiamo non guardare al PD come un fatto molto positivo che deve certamente essere corretto. Allora, la questione che poneva adesso Mario della globalizzazione, ma non solo della globalizzazione, ma anche della base sociale e della strategia politica, naturalmente è troppo complessa perché io adesso possa pensare di fare una conferenza su questo evidentemente, però io voglio dire una cosa soltanto, la crisi attuale di tutti i partiti di sinistra intanto verifica una cosa che noi irrisi da tutti dicevamo, e cioè che le socialdemocrazie non sarebbero uscite indenni dalla caduta del comunismo, neanche loro, perché anche tra i comunisti socialdemocratici, tra comunismo e socialdemocrazia c'erano dei tratti comuni, il tratto comune fondamentalmente è lo statalismo, e quello era proprio anche delle socialdemocrazie. Io credo che la crisi delle sinistre oggi dipenda da questo, non tanto dai discorsi della terza via, io non credo, devo dire in questo, forse non tutti sono d'accordo con me, anche a questo tavolo, ma io non credo che ci sia stata una subalternità al neoliberismo da parte della sinistra, credo invece che ci sia stata una difficoltà a rielaborare una strategia politica fuori appunto dalla tradizione statalista, credo che ci sia stata una difficoltà a individuare, a ricostruire una base sociale, e cioè degli interlocutori sociali, in una situazione in cui non c'è più la base sociale tradizionale sia dei comunisti che delle socialdemocrazie, cioè la classe operaia strutturata come soggetto sociale e politico. In una situazione in cui la società è frammentata, non ci sono appunto classi facilmente identificabili, ma c'è una grandissima frammentazione, e la politica avrebbe proprio il compito di ricuscire questa frammentazione, e invece non ci riesce, non ci riesce per una carenza, io credo proprio di cultura politica, per una carenza di elaborazione. e concludo qui, se noi vogliamo trarre, se io almeno, la lezione che trago dalla svolta, alla quale io ho partecipato con grande passione, quegli anni, quei due o tre anni della svolta, io credo che la lezione sia che appunto per fare politica bisogna fare anche elaborazione, bisogna riflettere sulle idee, bisogna mettere in campo delle idee, litigare anche magari, però mettere in campo delle idee. La svolta è stata questo, anche l'ulivo poi è stato questo, ma la svolta è stata una grande rottura sul piano delle idee e della consapevolezza politica, ed è questo quello di cui io credo dobbiamo ancora ringraziare chi ha avuto il coraggio e la lungimiranza di raccogliere il messaggio della storia, perché lì la questione del prima, prima o dopo il muro, a me sembra abbastanza un falso problema. Noi l'abbiamo fatta dopo il muro, ma perché il muro è stato appunto un evento di tale portata storica che bisognava rispondere con un'altrettanta capacità di individuare un mutamento storico. Pochi l'hanno capito allora, no? Che si trattava di una rottura storica fondamentale, pochi anche tra i tedeschi, la SPD ci ha impiegato molto tempo a capire cosa stava succedendo. E possiamo dire che invece Occhetto è stato uno dei pochi che l'hanno capito e la risposta doveva essere data sullo stesso piano, appunto, sul piano di un mutamento storico di grandi proporzioni e di grande profondità. Grazie Claudia